Maria è la donna che sa custodire nel suo cuore l'esperienza del Dio incarnato e la prima comunità cristiana, madre che insegna a Gesù a riconoscere la tenerezza materna di Dio e madre della moltitudine dei cristiani. Nella celebrazione della solennità di Maria Santissima Madre di Dio il primo gennaio nella Basilica di San Pietro Papa Francesco ci invita a celebrare una madre che ci libera dall'orfanezza spirituale. Siamo un popolo con una madre scandisce nella lunga omelia e il suo calore materno ci avvolge in mezzo alle difficoltà e le madri sono l'antidoto più forte contro il nostro egoismo, contro le nostre chiusure e apatie. Una società senza madri sarebbe non soltanto una società fredda ma una società che ha perduto il cuore, che ha perduto il sapore di famiglia. Una società senza madri sarebbe una società senza pietà, che ha lasciato il posto soltanto al calcolo e alla speculazione. Perché le madri, perfino nei momenti peggiori, sanno testimoniare la tenerezza, la dedizione incondizionata, la forza della speranza. Ho imparato molto, prosegue il Papa, da quelle madri che, con i figli in carcere o malati o schiavi della droga, non si arrendono e continuano a lottare per dare loro il meglio, o nei campi profughi e in guerra riscono a sostenere senza vacillare la sofferenza dei figli. Guardare al volto materno di Maria e a quelli delle nostre madri, prosegue Francesco, ci protegge dalla corrosiva malattia dell'orfanezza spirituale. Quella orfanezza che l'anima vive quando si sente senza madre e le manca la tenerezza di Dio. Quella orfanezza che viviamo quando si spegne in noi il senso di appartenenza a una famiglia, a un popolo, a una terra, al nostro Dio. Questa orfanezza, questa solitudine, spiega ancora Papa Francesco, cresce con la perdita dei legami che ci uniscono, tipica della nostra cultura frammentata e divisa. Così si perde memoria di quello che significa essere figli, nipoti, genitori, nonni, amici e anche credenti. E si perde memoria del valore del gioco, del riso, del riposo e della gratuità. Celebrare la festa della Santa Madre di Dio, conclude il Pontefice, ci ricorda però che non siamo solo oggetti invitati a consumare ed essere consumati. Siamo figli, famiglia e popolo di Dio, e vogliamo accogliere Maria nelle nostre case. Vogliamo incontrare il suo sguardo materno, quello sguardo che ci libera dell'orfanezza, quello sguardo che ci ricorda che siamo fratelli, che io ti appartengo, che tu mi appartieni, che siamo della stessa carne. Quello sguardo che ci insegna che dobbiamo imparare a prenderci cura della vita dello stesso modo e con la stessa tenerezza con cui lei se ne è presa cura, seminando speranza, seminando appartenenza, seminando fraternità. Dopo aver invitato i fedeli in basilica ad acclamare in piedi, come i fedeli di Efeso, la Santa Madre di Dio, il Papa conclude la celebrazione con l'omaggio alla Madonna. Prima della preghiera dell'Angelus la ringrazia per il coraggio con cui ha detto eccomi, e poi dopo aver pregato con gli oltre 50.000 fedeli ricorda la cinquantesima giornata mondiale della pace che dal 1967 per iniziativa del Beato Paolo VI si celebra il primo gennaio. Parla del suo messaggio dedicato alla non violenza come stile per una politica di pace e fa riferimento al sanguinoso attentato della notte di San Silvestro a Istanbul. Adolorato esprimo la mia vicinanza al popolo turco. Prego per le numerose vittime e per i feriti e per tutta la nazione in lutto e chiedo al Signore di sostenere tutti gli uomini di buona volontà che si rimboccano coraggiosamente le mani per affrontare la piaga del terrorismo e questa macchia di sangue che avvolge il mondo con un'ombra di paura e di smarrimento.